Ora che si è concluso l'anno, quali sono gli youtuber italiani con più iscritti del 2016? Visto che si parla dei dati di fine dicembre non mi interessa quello che succede dal primo gennaio 2017 in poi. Numero 10 e quindi se vi interessano dei dati più aggiornati vi basta andare sul sito dei live counts e mettere il nome interessato. Iniziamo con la decima posizione per i The Show. Questi ragazzi per la fine del 2016 hanno raggiunto la bellezza di un milione e cinquecentocinquanta mila iscritti. Numero 9. Nona posizione per Surreal Power con i suoi un milione e seicentomila iscritti. Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Numero 8. E' chiaro che ci saranno parecchi game player in questa classifica e infatti l'ottava posizione va ad anima con i suoi un milione e seicentocinquantamila iscritti. Numero 7. Settima posizione per CiccioGamer89 che si avvicina al milione e settecentomila. Numero 6. C'è chi dice che è il mio c'è chi dice che è il suo ma la sesta posizione va il vostro caro Dexter. Ebbene questo ragazzo ha appena festeggiato i due milioni di iscritti quindi complimenti Dexter. Numero 5. Quinta posizione per Stepney che io l'ultima volta avevo letto Strapney ma si può anche leggere Strapney. Giochi di parole. Ebbene quando avevo fatto la classifica dei canali più visti Stepney stava per festeggiare i due milioni e adesso si ritrova con due milioni e centosessantamila iscritti e magari anche di più nel frattempo controllate sempre il live count ovviamente. Numero 4. Quarta posizione medaglia di legno per i Pantellas che hanno abbondantemente superato i due milioni e trecentomila iscritti. Numero 3. E per questo 2016 si aggiudica la medaglia di bronzo con il terzo gradino del podio Favijay TV. Questo è il nome ufficiale poi per molti è Favijay semplicemente però terza posizione per lui. Ma ha comunque superato i tre milioni e trecentomila iscritti. Numero 2. Seconda posizione medaglia d'argento per i DM Pranks Production. Per fare sempre l'inglese. E qui posso fare finalmente un discorso che volevo fare da tanto tempo. La scorsa volta avevo parlato dei canali con più iscritti. Invece in questo caso sto parlando degli youtuber. Il canale è il luogo dove lo youtuber pubblica i propri video e quindi devo considerare la nazionalità del canale e il loro canale è iscritto negli Stati Uniti. Quindi non posso considerarlo come canale italiano. Ma il discorso è diverso se parlo della dicitura youtuber che sta per persona che pubblica video su youtube. E quindi parlo di persona o nel caso di DM Pranks persone. E chi sta dietro il canale dei DM Pranks sono italiani e quindi posso parlare di youtuber italiani. Ok? Quindi c'è questa distinzione tra youtuber e canale. Tutto chiaro? Sta di fatto che i DM Pranks stanno a 4 milioni e mezzo di iscritti. Numero 1. Prima posizione e medaglia d'oro per Cutie Pie Marzia. La youtuber italiana più famosa del mondo sta per festeggiare i 7 milioni di iscritti. E quindi complimenti. Una cosa ragazzi mi stavo togliendo il microfono perché avevo finito le riprese ma devo precisare una cosa. C'è qualcuno che ha scritto che Marzia è svedese e qualcun altro no è inglese. Non è che perché parla in inglese vuol dire che è straniera per forza. No Marzia è semplicemente una ragazza italiana e quindi youtuber italiana che è andata all'estero e fa video in inglese. E il suo canale è iscritto su youtube Italia. Non è né svedese in inglese, è italiana. Bene ragazzi anche questa top 10 è finita. Mi raccomando fatemi sapere qui sotto con un commento quali degli youtuber che ho citato voi seguite. E potreste essere inseriti nel mio prossimo video. E detto questo ragazzi, youtube! Grazie a tutti!